Presidente dei Nazionali, da capitano della Nazionale a capitano di tutto il movimento. Questo mi piace molto di più che presidente federale, se devo dire la verità. Sono felice, veramente felice. È stata una lunga, 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 lunga camminata, però oggi è arrivata la meta e ora è un primo passaggio questo. Gli obiettivi sono diversi, sono tanto difficili e io spero che tutto il movimento capisca che dobbiamo ragionare come una squadra, perché se no non andiamo da nessuna parte. Ha raccolto la voglia di cambiamento di un movimento che già in parte l'aveva votata quattro anni fa e che è riuscito a compattare ancora di più in questo lungo viaggio, come l'ha definito lei. Sì, credo che ci fosse veramente voglia di provare un'altra strada. Io spero di essere quella strada, francamente non mi sento l'uomo del destino come qualcuno mi ha dipinto, non lo sono, sono un essere come tutti che ha un peso ora sulle spalle importante, però questo peso io lo divido con tutti quelli che oggi hanno votato. Non si può fare quello che hanno fatto oggi le società italiane per poi disinteressarsi il giorno dopo della questione. Io sono certo che tutti questi presidenti, sia chi mi ha votato ma anche chi non mi ha votato, da oggi abbiano una motivazione in più per far grande il rugby italiano. I primi obiettivi che si è dato? Beh, guarda, nel programma il primo obiettivo è quello di far rinascere il rugby al sud e questa è una cosa in cui mi impegnerò anche fisicamente, nel senso che ci andrò. Poi abbiamo il passaggio dei comitati regionali, sono fondamentali. Le persone che lavoreranno nel comitato regionale nei prossimi quattro anni sono veramente i pilastri su cui io fondo il mio progetto e poi tante altre cose, ovviamente. Due parole sulla squadra che mi sembra sia stata votata in modo soddisfacente. Sì, sì, sì. Ma io ero aperto anche agli altri, io non credo di avere problemi con nessuno di coloro che sono entrati. Sono tutti i rugbyisti alla fine, sono tutti che vogliamo la stessa cosa. È inutile dire che quello è di una parte, quello è di un'altra, siamo tutti i rugbyisti, per cui non c'è problema. Sono felice comunque della squadra. È una squadra di persone che forse hanno anche poca esperienza, però hanno tanto entusiasmo e questo è quello che ci serve a noi ora, entusiasmo. Grazie a tutti.